Musica Non mancherai delle mie live su youtube se vuoi provare a vincere skin di pass battaglia o V-Bucks Benvenuti a tutti in questo nuovo video, ben seguiti e ben buongiati di tutto in questo video Andiamo a provare a vedere tutti i nuovissimi stili segreti delle skin del pass battaglia di questa stagione 5 di Fortnite Infatti anche scorsa stagione erano presenti i stili segreti per le skin del pass battaglia Che si sbloccavano appunto arrivando a un determinato livello Anche in questa stagione sono presenti questi stili Andiamo a vedere quali sono perché sono diversi dalla scorsa E soprattutto a che livello dovremmo arrivare per andarli a sbloccare all'interno del nostro armadietto Per prima di cominciare come alzionato vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video e le like per lo skin di pass battaglia Infine a quanti video e il suo video città ai tuoi miei siamo a vedere anche a loro Appunto come sbloccare tutti questi nuovissimi stili segreti delle skin del pass battaglia della stagione 5 di Fortnite Quindi partiamo subito e richiamiamoci alla sezione pass battaglia E appunto andremo a provare a vedere tutti quanti i stili segreti di ogni skin del pass Ad eccezione della skin del mandaloriano che non possiede stili segreti E ad eccezione della skin eccola qui di Lexa Quindi appunto la skin di Lexa non possiede insieme al mandaloriano nessun stile segreto Invece tutte le altre del pass invece posseggono stili segreti Quindi direi di partire subito Infatti appunto i stili segreti di questa stagione sono esattamente 3 come anche nella scorsa E appunto arrivando a un determinato livello sbloccheremo la schermata segreta Che ci permetterà di guardarli e appunto vederli tutti quanti Infatti appunto i stili segreti sono esattamente lo stile zaffiro Esattamente appunto questo si sta vedendo ora a schermo Proprio esattamente poi lo stile topazzo che più o meno va a richiamare l'oro E infine abbiamo lo stile punto zero che va proprio a ricollegarsi al punto zero di questa stagione 5 Infatti partiamo subito dalla prima skin che è esattamente la skin di Rize Quindi dovrebbe chiamarsi esattamente in questo modo Infatti appunto per sbloccare lo stile zaffiro di Rize Dovremmo arrivare esattamente al livello 110 del pass battaglia Poi invece per sbloccare lo stile topazzo Cioè lo stile appunto lì che va a richiamare l'oro Dovremmo arrivare al livello 160 del pass battaglia Invece per sbloccare il suo ultimo stile segreto Dovremmo arrivare esattamente al livello 205 del pass battaglia stagionale Qui davvero molto ma molto semplice più o meno Almeno i primi due saranno abbastanza fattibili Poi se riuscite anche ad arrivare al livello oltre il livello 200 Riuscite anche a sbloccare lo stile punto zero Andiamo avanti abbastanza velocemente Passiamo alla seconda skin che è esattamente Mancake Appunto questa skin davvero molto molto particolare Che va proprio a raffigurare un cacciatore di taglie in stile pancake Infatti per sbloccare il suo stile zaffiro Dovremmo arrivare al livello 120 del pass battaglia O livello stagionale Per sbloccare invece il suo stile topazzo Dovremmo arrivare al livello 170 E per sbloccare il suo stile punto zero Dovremmo arrivare al livello 210 Andiamo avanti perché poi passiamo invece alla skin di Maeve Questa skin appunto Che va proprio a richiamare una guerriera della giungla Infatti per sbloccare il suo stile zaffiro Dovremmo arrivare esattamente al livello 130 del pass battaglia O di stagionale Invece per sbloccare il suo stile topazzo Proprio lo stile va a richiamare l'oro Che è davvero molto molto bello Dovremmo proprio arrivare al livello 180 Invece appunto per sbloccare il suo ultimo stile Cioè quello punto zero Dovremmo arrivare al livello 215 Andiamo avanti Passiamo alla penultima skin Che ha uno stile segreto Esattamente Condor Questa skin appunto davvero molto molto particolare Infatti questa skin oltre ad essere a sette illuminazioni Cioè avere appunto la caratteristica dell'illuminazione Come il Cavaliere Eterno della stagione 3 Appunto per sbloccare il suo stile segreto e primario Cioè appunto lo stile zaffiro Dovremmo arrivare al livello 140 della stagione Invece per sbloccare il suo stile topazzo Dovremmo arrivare al livello 190 E per sbloccare infine il suo stile punto zero Dovremmo arrivare al livello 220 E avremo sbloccato anche i stili segreti di quest'altra skin Passiamo all'ultima skin Che come detto prima Non è questa di Lextra Perché non li possiede i stili segreti Non è neanche quella del Mandaloriano Ma pensi a questa qui del Menace Che oltre allo stile primario Tutti quanti gli altri stili secondari Dove appunto la sua armatura diventa sempre ma sempre più grande Ecco qui alla fine come diventa la skin Prima di sbloccare il suo stile zaffiro Dovremmo arrivare al livello 150 Invece per sbloccare il suo stile topazzo è il livello 200 E per sbloccare il suo stile zero point Cioè appunto zero Dovremmo arrivare al livello 225 Quindi appunto davvero dei stili abbastanza fattibili Almeno lo stile dello zaffiro è abbastanza fattibile Poi appunto se riuscite a livellare molto durante questa stagione Riuscite anche ad arrivare tranquillamente oltre al livello 200 Appunto avete tempo fino al 16 marzo che finirà la stagione Per arrivare appunto al livello 225 Se volete sbloccare tutti quanti questi stili Segreti Questa stagione durerà fino al 16 marzo E durerà esattamente una barra due settimane in più Della stagione 4 Quindi avete ancora più tempo Quindi spero che questo video sia piaciuto Fai se per voi se pensate Tutti questi nuovissimi stili segreti E le skin del pass battaglia di questa stagione 5 Poi se appunto voi le andrete a sbloccare Se questo video vi è piaciuto come al sito Vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivete al canale Tieno la campanella delle notifiche Così se siamo aggiornati su questi tipi di video Le vi lo skin a base a taglia Infine a condividere il suo video C'è il tuo amico Facciamo vedere anche a loro Appunto tutti questi nuovissimi stili segreti Le skin del pass battaglia di questa stagione 5 Noi ci vediamo un prossimo video Alla prossima live Alla prossima live Alla prossima live